Se fa queste tre cose significa che ti ama per davvero. La prima cosa che deve fare è dare sistematicamente dei segnali non verbali positivi quando ti vede, cioè si tocca le labbra, viene in avanti, si accarezza ed evitare quelli negativi ovviamente, tipo raschiamenti, andare indietro, grattare. Se si gratta dietro poi è frustrazione, tieni presente questo. Quindi segnali non verbali positivi è la prima cosa. Ti mette come priorità, cioè ti considera, ti scrive, ti telefona, ti chiama, sta piacevolmente in tua compagnia sia fisicamente sia online. Oggi ci sono anche molte relazioni magari a distanza. E poi terza cosa è una persona che ti valorizza, ti stima e ti considera e ha passione per te. Metti un like con l'abbonamento base, segui tutti i miei seminari. Ciò tu.